Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi degli auricolari True Wireless di TronSmart che, come potete vedere, presentano un contenitore che permette sia il trasporto che la ricarica. Contenitore che dovrà poi essere caricato a sua volta tramite un cavo USB. Gli auricolari si presentano in questo modo, hanno un design in R, quindi vanno inseriti all'interno delle orecchie e non hanno pulsanti fisici, ma touch, nella parte superiore. Pulsanti che permettono di accendere e spegnere gli auricolari, sincronizzarli via Bluetooth, aumentare o diminuire il volume e passare alle varie modalità, tra cui quella della cancellazione del rumore. Ho avuto modo di provare gli auricolari sia su smartphone Android che su Smart TV attraverso il trasmettitore Bluetooth. Il risultato è stato che, come livello audio, non c'è male. Diciamo, sono in grado di riprodurre l'audio ad alto volume su smartphone e grazie alla cancellazione del rumore potete, diciamo, isolarvi dall'ambiente esterno e colui con il quale parlate, diciamo, riceve la vostra voce in maniera limpida. Invece su Smart TV, diciamo, il volume non era poi così alto, anche se aveva aumentato al massimo il volume dagli auricolari. Ma questo, diciamo, è un difetto che hanno tutti gli auricolari True Wireless, se li utilizzate con una Smart TV. Un problema che mi ha dato piuttosto fastidio, che ho riscontrato su Smart TV sempre, è che, mentre, diciamo, ascoltavo l'audio del gioco dalle cuffie, parlando sentivo, tipo, gracchiare l'audio. Quindi è una cosa che mi ha dato piuttosto fastidio, cosa che non è accaduta su smartphone. Diciamo, è una cosa che va detta, ovviamente, se, come nel mio caso, volete utilizzare gli auricolari True Wireless sulla TV mentre trasmettete, diciamo, un gioco da PlayStation 5, Xbox Series e Nintendo Switch, affidandovi ad un dispositivo di acquisizione esterna, dovete sapere che potrebbe verificarsi questo problema. Senza contare che, essendo auricolari in-air, anche se c'è la possibilità di cancellare il rumore esterno e di attivare l'ambiente on, diciamo, la vostra voce appare come ovattata. Quindi avete la sensazione di avere le orecchie un po' otturate quando parlate. Quindi, se, come nel mio caso, siete in cerca di auricolari che vi permettano di ascoltare al meglio la vostra voce evitando di urlare durante una diretta live, non fanno al caso vostro. Se, invece, siete in cerca di auricolari in-air di buona qualità che permettono di ascoltare la musica su smartphone e tablet ed isolarvi dall'ambiente esterno cancellando i rumori, non sono affatto male. Potete acquistarli, diciamo, su Amazon o tramite i rivenditori specializzati.